Alessandro Bruni, direttore sportivo della Baldaccio, sconfitta in amichevole contro il Trestina, però possiamo dire che ovviamente il risultato lascia il tempo che trova, ma resta invece una buona prestazione, soprattutto nel primo tempo, contro una squadra di categoria superiore. Sì, diciamo che per 60 minuti abbiamo fatto una buona gara, fino a che chiaramente anche fisicamente siamo stati all'altezza, perché chiaramente ci alleniamo per questo e poi ci sono stati anche diverse alternanze sulle sostituzioni, quindi io sono contento perché abbiamo giocato alla pari con una squadra di categoria importante, quindi ci stiamo allenando per il campionato. Una squadra che si conferma tosta e solida e abbiamo già visto buone cose in avanti, insomma anche per quello che riguarda l'intesa tra gli attaccanti. Sì, questo diciamo che qualche volta abbiamo sfruttato bene, qualche volta un po' meno bene le occasioni che ci sono capitate, ma chiaramente facciamo l'eccellenza, quindi ci sta di sbagliare. Dobbiamo un pochino migliorarci nel non subire gol, perché quella era una premessa importante per le nostre caratteristiche. Si è conclusa con questa amichevole la fase di preparazione, ora si comincia a fare sul serio, però prima di guardare gli impegni ufficiali facciamo un po' il punto su questa preparazione e sull'inizio di questa nuova avventura. Io credo che questi ragazzi lavorano dai primi di agosto intensamente, quindi gli aveva fatto un applauso per come si allenano, per come vengono al campo, considerando anche che oggi c'era 35 gradi, quindi credo che possiamo solo trarre note positive da questo periodo di preparazione. Cerchiamo di migliorarci con qualcosa per poter fare una squadra ancora più competitiva, se si può dire, anche se noi siamo già contenti di avere un buon gruppo così. Martedì si ricomincia con gli allenamenti in vista della settimana, che poi porterà l'esordio in Coppa, gara di andata contro la Castiglionese. Sì, ora gli dà due o tre giorni di relax perché hanno fatto una settimana molto intensa e quindi ci prepariamo a affrontare la prima partita di Coppa perché diciamo che iniziamo da lì e che vale tre punti, a differenza di tutte le gare da adesso che si chiama calcio estivo, quindi va preso per quello che è. Il 10 invece comincerà il campionato, usciti i calendari, gara interna, contro la Lastrigiana, ma qual è il ruolo che vuole recitare la Baldaccio in questa nuova stagione? Ma senti, la Baldaccio cerca sempre di fare bene, poi il passo tra fare bene e molto bene o male è abbastanza corto, quindi noi dobbiamo stare attenti perché ripartiamo da zero punti tutti, quindi rimettiamo tutti in discussione tutto quello che hai fatto l'anno scorso. E' chiaro che c'è una base per poter lavorare e secondo noi anche per potersi divertire. Lo facciamo un appello agli anghiaresi e ai tifosi perché lo scorso anno ha portato grande entusiasmo e sarebbe bello ripartire da quello per trovare ancora ulteriore gente che venga allo stadio. Io credo che loro sono una parte importante per noi, per chi gioca in particolare, perché avere una tribuna numerosa è chiaramente da motivazioni un po' diverse rispetto ad avere pochi intimi, quindi noi siamo fiduciosi che ci diano una mano anche quest'anno agli anghiaresi. Il primo appuntamento al Salario Zanchi è il 10 settembre quando partirà il campionato della Baldaccio.